allora è arrivato un pacchetto dalle bimbi fatto un piccolo ordine ho fatto l'ordine la domenica e oggi che è martedì 4 di dicembre è già arrivato due giorni più o meno tre cosine che mi servivano per degli ordini che mi mancavano e adesso lo spacchetto con lui sono arrivato con i bartolini sono ancora aperti scusate la luce ma è quella che sta registrando in cameretta adesso mi taglio un dito in diretta ho preso due cose poi ho fatto degli ordini su wish e su un nuovo sito e dovranno arrivare quindi qua c'è il gravidiettino grazie questi sono sempre i numeri contatto delle bimbi perché non conoscesse a bello la bustina in organza con tutti i brillantini questo va sempre bene per mettere frazioni allora allora fattura ho speso 33 e 35 aspettate che c'è gli ordini alcune cose non scontate mi dico i prezzi anche sul colesterolo una cosa allora ho preso il fimo quello rosa il numero 43 devo fare le faccine le faccine dai bambolini piedini delle cose rosa da 350 grammi che il soft e l'ho pagato 6 euro e 97 mi sembra che era scontato questo qua perché era sulle 8 euro incontro invece un altro sito che le fa pagare 10 però mi è convenuto prenderlo qui poi questa catenella i componenti per creazioni le basi già pronte è da 46 centimetri maglia liscia 3x2 mm traccata argento questo è il codice nickel free si mette a fuoco ma sapete che lei non gliene frega niente mentre a fuoco come sempre queste sono quelle pronte dove si apre io avevo presa quella zigrinata e adesso ho preso quella lissa che hanno già il motoschettone montato su e tutto perché vedo allora invece l'inquadratura è nickel free questa qui ed è liscia ormai argentata bella leggera già pronte poi le ritiro questo è il codice poi questa base mi sembra averne presi due si due basi sono a cornicetta bronzo 57 per 49 pagate un pezzo veniva un euro e 60 no un euro e un euro e 60 al pezzo questo è il codice ed è fatta così vedete da tavola quindi per lavorarla col fimo per fare qualcosa di diverso insomma siccome ho già una commissione un progetto da fare con queste due poi ho preso questi scusate che li avevo finiti sono chiusure sono terminali ventati in silver 18x13 100 pezzi sono questi qua a a libro diciamo le sfide avevo finiti per le collane ad orto con l'organza braccialetti l'organza il codice è questo qui devono arrivare anche oro da un'altra parte poi ho preso questi due orologio però pensiamo che erano più grandi fa niente per provare va bene ah mi hanno fatto pagare meno eh sì ho fatto lo sconso perché praticamente sul sito me le dà 98 centesimi e qua me le dà 78 centesimi sono piccolini eh sono poi a base a orologio per fare qualcosa a tema lice io volevo prenderli l'altra volta però però va bene meglio sono piccoli e bellissimi sono lavorati dietro belli belli belle poi il codice non l'ha messo il codice è questo qui questo ve lo do questo qui poi poi questi sono questa è storta si è stortata quella di attrezzo praticamente allora in bronza sono le basi per spille sempre nickel free 82 per 26 questo è il codice sono fatte così per fermare le diciamo le sciarpe le cose poi le attrezzo sono lavorate se mette a fuoco su su poi le attrezzerò è troppo sperando che non si rompano per pazienza queste non le avevo poi le chiusure queste qui grosse sempre muschettone argento cuore intagliato 25 per 13 sono 5 pezzi pagati 2 ore 42 le spille le ho pagate le spille allora non vi ho detto il prezzo di queste però dove sono 78 centesimi 78 ce ne sono dentro 2 qua 5 invece 2 ore e 42 codice si mette a fuoco questo sono fatti sono abbastanza grosse poi per ultimo ho preso le le basi per sempre per per spille in cameo 38 per 29 e sempre i nickel free sono 5 pezzi pagati 1 euro e 60 queste qua piccolette se prima metterle su magari delle giacche da donna un po' più eleganti da donna un po' più eleganti questi non ne avevo questo è il codice e niente quindi come sempre mi sono trovata bene e adesso poi arriveranno altri pochettini questo è il maggio faccio vedere ancora il bigliettino che magari ancora non lo conoscesse no dubito elisi è stata gentilissima perchè poi ho avuto un problema perchè volevo pagare in una maniera poi ho voluto pagare in un'altra c'è stato un piccolo ho fatto un piccolo casino io però niente è stata gentilissima nel rispondere tutto email telefonicamente e niente come sempre tutto bene niente e vi aspetto al prossimo video se vi è piaciuto questo video mettetemi un pollicione in su e vi aspetto al prossimo ciao ciao